Carriera esiste dagli anni 90 da quando il fondatore Davide Boifava ha dato vita a questo marchio di biciclette. Negli anni ha fatto veramente tanto sul campo sportivo da lanciare nel mondo dei professionisti corridori importanti come Marco Pantani, Ivan Basso, Chiappucci e ce sono tanti altri a creare e costruire biciclette di successo che hanno fatto la storia del ciclismo sia in quegli anni e continuano a farla tuttora con modelli nuovi di punta come la nostra AR01. Carriera ha la prerogativa di essere un'azienda italiana e noi facciamo tutto, assembliamo le bici, le verniciamo tutto in casa qui in Italia in provincia di Brescia. Proprio una delle particolarità delle nostre biciclette è che il ciclista, l'utente finale, le può personalizzare come vuole, dai colori, quindi dedicandosi a una colorazione personale, all'allestimento dei gruppi e delle ruote. Particolarmente lavoriamo con FSA, con Fulcrum, ma anche Shimano, Campagnolo, quindi ognuno può montare il gruppo che ritiene più giusto sul suo modello di bicicletta. Qui in fiera stiamo presentando lo SRAM nuovo, è il wireless, quello senza fili, che è compatibile con le nostre biciclette, nascono tutte con la predisposizione ai nuovi gruppi elettronici o addirittura si può scegliere nella versione col freno a disco o col freno tradizionale. La R01 ha anche la caratteristica di montare davanti un freno col doppio perno e in maniera posteriore si può scegliere sul carro posteriore se montarlo in basso o montarlo in maniera tradizionale.